Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di cavolfiore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, patate tagliate a cubetti, acqua, scalogno, burro, dado bimbi vegetale, prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo a tritare per 3 secondi a velocità 7. Ligniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità a 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le patate, il cavolfiore, facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità a 1. Aggiungiamo il dado, il sale, il pepe, la noce moscata e l'acqua. E facciamo cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità a 1. adesso frullare per un minuto da velocità 6 a velocità 10. la vellutata è pronta. Andiamo a impiattare spolverizzando con del prezzemolo tritato errorando con un filo d'olio. Vellutata di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!